I numeri aumentano di giorno in giorno, sindaco anche all'interno del comune di Teramo e dei dipendenti, tra cui anche un assessore. Come vi state organizzando? Purtroppo l'incremento dei numeri non ci sono, diciamo così, aree protette, quindi coinvolge ovviamente tutti i settori. Come abbiamo detto anche qualche giorno fa, anche l'amministrazione comunale, i dipendenti, un nuovo dipendente, più l'assessore Filipponi, abbiamo già fatto questa comunicazione ufficiale. Intanto diciamo che si tratta di tutti i casi slegati l'uno dall'altro, anche come origine, presumibilmente, come probabilità, un'origine familiare in questo caso, quindi non legata all'attività. Questo è un dato che è importante perché comunque ci conferma che non c'è nessun rischio, ipotesi di focolaio all'interno dell'ente. Siamo intervenuti immediatamente con la sanificazione dei locali, dei locali interessati, che in questo caso è una sola palazzina, così come abbiamo fatto anche per quanto riguarda la Polizia Municipale. Quindi la situazione è assolutamente sotto controllo. Siamo in una fase nella quale l'aumento dei contagi però dovrà portarci ad adottare ulteriori misure di gestione della macchina amministrativa. Pensiamo ad esempio alla, diciamo così, alla razionalizzazione degli orari anche di apertura al pubblico, con il potenziamento ovviamente delle forme di assistenza e di supporto e di servizio da remoto o comunque a distanza. Quindi stiamo andando in questa direzione, il potenziamento dello smart working che consentirà anche di alleggerire, di ridurre insomma i rapporti e i contatti all'interno dell'amministrazione. Ma su quello devo dire che già eravamo adeguati alla normativa vigente, quindi non dobbiamo modificare grosse cose. L'aggiunta, ed è un elemento che ci ha consentito anche di arginare questa situazione, già da tempo si svolge prevalentemente se non esclusivamente in videoconferenza. E il Consiglio Comunale, che come il capire la conferenza che Peruppo ha deliberato qualche giorno fa, si tornerà in forma ibrida a porte chiuse con la garanzia di presenza ovviamente della stampa e dei mezzi di comunicazione. Quindi la situazione è assolutamente sotto controllo nel senso che comunque sono state adottate tutte le misure. È chiaro che in un contesto del genere in cui abbiamo un aumento dei contagi così importante e così significativo, dobbiamo assolutamente stringere ancora di più le maglie e cercare di ciascuno di noi di rispettare le regole più di quanto le regole stesse prevedono. Questo è un po' l'impegno che dobbiamo assolutamente assumere tutti se vogliamo veramente arginare la diffusione del contagio in attesa. Probabilmente sapremo qualcosa oggi con l'ufficialità di domani del nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che ovviamente è in discussione al momento a Roma. Grazie. Grazie.